E' stato il fratello minore, 21enne, a ferire con un coccio di bottiglia e non con un coltello, il maggiore, 25enne, il giorno di Pasquetta Paolo VI, nelle vicinanze delle case bianche. Gli investigatori ne hanno avuto notizia dai sanitari del Santissima Annunziata, dove la vittima, che ha riportato una profonda ferita d'arma da taglio a limite a racce destro, è stata giudicata guaribile in una ventina di giorni. In relazione a questo tipo di ferita, la polizia ha denunciato l'autore per tentato omicidio. In ospedale, il 25enne ferito ha manifestato fumosità nell'esporre i fatti, dicendo che si era trattato di una vicenda appassionale, legata ad uno sguardo in più rivolto ad una donna. Non convinti, gli investigatori hanno ascoltato testimoni e familiari. Confrontando i racconti, è emersa una profonda incoerenza dei fatti, poi la confessione del 21enne. La motivazione, sebbene ancora tutta da chiarire, risiederebbe nella gestione di alcuni affari ed interessi di famiglia. Nella seconda operazione è stato tratto in arresto il 36enne Cataldo Catapano, una vecchia conoscenza degli uffici della Questura, da cui mancava dal 2006, per traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da fuoco. Nella perquisizione domiciliare al quartiere Tamburi, nella zona di Piazza Gesù Divin Lavoratore, è stata ritrovata una fondina di pistola, mentre in uno scantinato di pertinenza c'erano una beretta calibro 9 Parabellum 92 SB, identica a quella utilizzata dalla polizia e quindi rubata, con matricola a brasa con una fresatrice, un caricatore con 15 cartucce dello stesso calibro ed altre di calibro diverso, oltre ad un chilo e 100 grammi di eroina pronta per essere tagliata dai pusher cui era destinata. venduta a 20 euro al grammo avrebbe fruttato 100.000 euro.